Sindaco, intanto proviamo a fare un assaggio di salto nel passato, poi quello reale ci sarà il 21 a Montepagano, un borgo che si presta, un po' tornare indietro nel tempo. Sì, sarà un rinascimento paganese, un rinascimento rosetano, la storia che oggi entra nella nostra sala consigliare, quindi il luogo istituzionale per eccellenza del nostro comune e ringrazio davvero tutte le associazioni, la rete che si è creata intorno a fianco all'amministrazione per permettere alla storia di mantenersi nel tempo. Questa rievocazione è proprio l'esempio di un borgo che vuole continuare a vivere non perdendo il contatto con le radici che sono fondamentali. E Vera Grilli, alle sue spalle vediamo quello che vedremo a Montepagano il prossimo 21, rievocazione storica, di che cosa si tratta e come avverrà? Beh, quest'anno sarà un pochettino diversa perché comunque ci sarà la rievocazione storica, la storia immaginata e con degli spunti di verità e però appunto prendendo esempio dalla storia che è una storia di accoglienza e anche di inclusione abbiamo voluto unire le due cose e dare un contenuto in più alla rievocazione storica. Infatti ci sarà naturalmente il corteo, la storia appunto del 1566 con tutte queste bellissime comparse e ci sarà questo corteo. Poi però ci sarà un momento dedicato alla inclusione, all'accoglienza e quest'anno abbiamo deciso di far venire Vito Fiorino che nelle acque di Lampedusa nel 2013 è riuscito a salvare 47 clandestini che stavano affogando in mare.